Gianluca Umberto Bertoni, per Bertoni Editori, propone oggi in occasione di Umbria Libri Love il libro Mi sono innamorato di. Come mai avete scelto questo volume e di cosa parla? Beh, diciamo che nel nostro catalogo abbiamo anche quello che viene definito un po' woman fiction, perciò libri che parlano di sentimenti e abbiamo uno degli autori che, insomma, è considerato in questo ambito, insomma, un autore affermato, ha pubblicato anche con Sperling, è tradotto in più di dieci paesi e con Mi sono innamorato, Diego Galdino continua questa sua produzione dove parla di sentimenti e perciò abbiamo ritenuto che questa iniziativa fosse proprio l'occasione giusta per poterlo presentare qui in Umbria. Quali altri obiettivi prefissati per il 2024 per Bertoni Edizioni? Sono tanti, noi ci occupiamo di tante categorie tecniche, noi abbiamo poesia, usciremo con un'importante raccolta dove facciamo anche un lavoro di ricerca di autore al femminile che sono state dimenticate, abbiamo una linea per quanto riguarda i libri in book, libri che servono per l'accessibilità della lettura, poi per la narrativa, insomma, avremo dei titoli importanti già selezionati, circa 30 titoli e poi abbiamo da poco anche inaugurato un nuovo marchio Tevere Edizioni per promuovere quelli che sono gli autori locali anche in funzione della promozione del territorio. Appuntamenti come Umbria Libri possono essere una vetrina importante per gli editori Umbri? Sì, diciamo che ogni contesto secondo me bisogna sfruttarlo, intanto io dico sempre che l'ambito letterario è comunque un ambito ristretto, perciò è importante essere presente all'interno delle Kermesse perché danno l'opportunità di confrontarsi con i colleghi, conoscere nuovi autori, conoscere come voi dei giornalisti, quindi come dico sempre è importante fare rete e naturalmente queste Kermesse aiutano in questo senso.